Un cordiale saluto a tutti Ciao a tutti gli amici in linea e benvenuti nell'appuntamento video settimanale di reso conto dei segnali di trading in abbonamento di The Trading Online. Inquadrato e in grafica troviamo il post di riferimento delle settimane e dei segnali del mese di settembre 2017. Andiamo quindi a vedere quanto è accaduto nella settimana del mese appena conclusa dal 4 all'8 settembre. La settimana ha visto 4 trade eseguiti. 3 di questi 4 si sono conclusi in maniera positiva nelle giornate di mercoledì 6, giovedì 7 e venerdì 8. Un trade invece non è stato eseguito lunedì 4. Ricordiamo che il mese di settembre si è aperto con un trade chiuso in profitto venerdì 1 e che nella settimana a cavallo tra agosto e settembre, oltre a questo, ci sono stati altri 2 trade in guadagno e un trade in perdita. Il bilancio complessivo del mese di settembre, aggiornato fino all'8, è di 5 trade eseguiti, 4 in profitto e 1 in perdita. È tutto per quanto riguarda questa settimana. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e vi do l'appuntamento alla prossima settimana con un nuovo resoconto dei segnali di trading in abbonamento. Grazie. Grazie.